Come da tradizione, in occasione delle elezioni amministrative, Teleunica dedica alle prossime regionali del 4 marzo uno spazio giornalistico di approfondimento per presentare agli elettori candidati e programmi. Ben 17 le liste in corsa al Pirellone nella circoscrizione della provincia di Lecco, ciascuna delle quali presenta quattro candidati, due uomini e due donne, per rispettare, come previsto dalla legge elettorale, l'alternanza di genere. È possibile infatti esprimere non solo il voto all'aspirante neogovernatore o ad una delle formazioni politiche che lo sostengono, ma anche le preferenze per eleggere i consiglieri, scrivendo nell'apposito spazio, accanto al simbolo della lista di appartenenza, il cognome del candidato o della candidata cui si vuole attribuire il proprio sostegno. Si possono esprimere sino ad un massimo di due preferenze, ma in questo caso dovranno essere candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Ottante i consiglieri da eleggere per il governo della Lombardia alla coalizione vincitrice garantito almeno il 55% dei seggi se il presidente eletto avrà preso meno del 40% dei voti validi. Se invece i consensi supereranno la soglia del 40%, i seggi garantiti saranno pari al 60% del totale. Nei prossimi giorni Teleunica proporrà ai telespettatori le interviste con i singoli candidati alla presidenza. Dario Violi per il Movimento 5 Stelle, Onorio Rosati, liberi e uguali, Giorgio Gori, centro-sinistra, Attilio Fontana, centro-destra, Massimo Gatti, sinistra per la Lombardia, Giulio Arrighini, Grande Nord, e Angela De Rosa, Casa Pound. Intanto, da questa sera e sino al primo marzo, spazio ai candidati in corsa che hanno aderito all'invito della nostra emittente. L'appuntamento sarà sempre alle 20.50 con replica alle 11 del giorno successivo e pubblicazione sul canale YouTube di Teleunica. Stasera i primi sei candidati alla carica di consigliere, in studio Raffaele Straniero del PD, Antonello Formenti della Lega Nord, Emanuele Manzoni di Liberi Uguali, Fabio Bramati del Movimento 5 Stelle, Luigi Panzeri di Sinistra per la Lombardia e Giovanna Rotondo della lista Gori Presidente. Sì 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 Sì